E rieccoci con le news riguardanti One Piece Treasure Cruise, le cose da dire sono veramente tante, forse anche troppe, quindi senza dunge alcuno passiamo alla versione giapponese, di solito è quella che tratto di meno, però questa volta al suo perché. Abbiamo un nuovo raid boss il 2 di febbraio, ovvero Signor Pink, Signor Pink sarà un raid boss rosso, sarà una 30, una 40 stamina, per l'occasione avrà metà stamina, quindi approfittatene, e poi per il ratings ovviamente vi rimando a qualche settimana, tra qualche settimana con il podcast, comunque è un capitano free spirit. In più c'è una nuova island, una island di San Valentino con Valentine Sanji, o Sanji che si sta per sposare, quindi della saga di Wall Cake Island, quindi non è un personaggio limited e requit, sarà farmabile, è un personaggio giallo, Powerhouse Fighter, e penso ci sia già la data, però nella pagina che ho della notizia non è segnata. Comunque a breve dovrebbe essere. Più importante, forse la parte più importante, abbiamo due nuovi Six Star Plus, abbiamo Six Star Plus Bartolomeo e Six Star Plus Crocodile. Occhio perché queste due versioni qui cambiano colore, quindi Bartolomeo da essere nella sua versione 6 stelle è rosso, passa a essere nella sua versione Six Star Plus blu, quindi da rosso diventa blu, e Crocodile da verde diventa rosso. Quindi occhio perché sono due personaggi che cambieranno colore, quindi sono richiesti anche i teschi di colore diverso, quindi penso che per Bartolomeo servono il teschio blu e per Crocodile il teschio rosso. Sono dei miglioramenti, ovviamente, come ogni versione Six Star Plus, ma forse nemmeno più di tanto. Io innanzitutto, anche qui poi il rating se lo verrà rimandato al podcast, io sono un po' in disaccordo sul cambiare colore ai 6 stelle quando diventano Six Star Plus. Mi sta bene per 1 o 2, però adesso non spero che non diventi un appuntamento fisso. Anche perché Six Star Plus Crocodile, comunque essendo sempre capitano Cerebral, dovrà competere ancora di più con i Nuarashi, anche lui Cerebral rosso. E Bartolomeo, soprattutto, deve competere con, essendo capitano Striker e Driven, questa volta, però comunque come capitano Striker, deve competere con l'OV2 nella sua versione 6 stelle normale. E poi l'animazione della special di Six Star Plus e Bartolomeo è veramente un qualcosa di agghiacciante, veramente molto molto brutta. Ma poi comunque, per vedere quello che fanno e cosa fanno e qual è la mia opinione, con tanto di voto, vi rimando, come ho detto, al Character Ratings. La prossima fight è stata già annunciata, non si sa ancora quali manuali avrà, ma sarà l'isola di Vanderdecken e Wadatsumi. Quindi, come ha detto alcuni su Reddit, finalmente Socket per Wadatsumi. In più, c'è questa mega batch, che ancora, secondo me, non è proprio chiara cosa sia, con un bel po' di waifu. Abbiamo una Robin nuova, che probabilmente, data l'immagine che ha, sarà, presumono e presumono alcuni, sia Six Star Robin. E poi, una serie di personaggi, quattro personaggi, ovvero Nami, Koala, Shiraoshi e Carrot, di San Valentino. Spero non siano tutti i Secret Character, ma che almeno due di queste sia la solita isola farmabile che c'è a San Valentino. Comunque, ovviamente, è ottimo materiale, sia Robin che queste quattro Valentine Character, ottimo materiale per lavorare di mano. E voi sapete a cosa mi riferisco. Detto questo, non dovrebbe esserci più niente della Japan. Mi sembra di aver detto che, non so se l'ho detto, ma il nuovo Colosseum è Pedro. Mi sembra di non averlo detto, comunque, c'è già da un paio di giorni. Ma passiamo alla versione Global, che sì, lì c'è tanto da fare. Prima di iniziare a parlare della Global, lo dico adesso, non a fine video, così ho la vostra attenzione. Magari a fine video, schippate o chiudete il video in anticipo. Quindi, lo dico adesso, 99 su 100, dato che, come sappiamo, ci sono delle Chopperman Mission che regaleranno un, se fate totologin di fila, una leggenda, un pool di leggenda, probabilmente, quando farò questo pool, ci sarà anche una live molto breve. Ecco, molto breve, intendo che, come al solito, ci sarà mezz'ora di bestemmie perché la live darà problemi, e poi un'ora dove, praticamente, non si fa assolutamente nulla. Non so quando verrà data, l'evento finisce il 29 di gennaio, quindi probabilmente sarà comunque il giorno dopo, c'è scritto che verrà consegnato dopo il 29. Comunque, rimanete collegate alla pagina Facebook dove lì dirò quando ci sarà e perché ci sarà così, almeno ci passiamo 10 minuti assieme e vediamo quale disgrazia mi capiterà. Ma passiamo alle notizie vere e proprie, partendo da qui. Dal 30 al 13 abbiamo già la nuova Fortnite, quindi si va a sovrapporre, purtroppo, con quella di Jolla e Brooke, ovvero la Fortnite di Madame Charlie. Peraltro, Madame, pensavo, si scrivesse con la E, nel caso sia un errore, faccio l'utente medio di Facebook e di One Piece Treasure Cruise, voglio, per compensare a questo errore, nel caso sia un errore, una gemma e un pool di leggenda. Anzi, una leggenda scelta, proprio facciamo veramente l'utente medio di One Piece Treasure Cruise che scrive su Facebook. Comunque, la condizione di quest'island è che non devi superare il costo di 180 e questi sono i manuali. C'è Fugitoras, come i manuali di 6 stelle, c'è Perone e Reilly della Becce dell'Istroit e Conspirator, ma ci sono anche dei manuali molto interessanti come Kiros, Courier e Namul e più Story Mode di Jinbei. Penso che sia Story Mode Jinbei. Io sono in disaccordo sul far sovrapporre le Fortnite, l'avevano già fatte in passato e già lì espressi il mio disappunto, perché così metti un po' troppa pressione a coloro che vogliono farmare le nuove X-Reyland, appunto in questo caso la Fortnite di Jolla e Brooke. Peraltro, questa nuova Fortnite, la Fortnite di Madame Charlie, avrà anch'essa delle Chopperman Mission, quindi sembra essere confermato finalmente il fatto che ogni nuova Fortnite avrà delle Chopperman Mission, che sono molto molto utili. Abbiamo un evento classico della versione global che c'è da un bel po' di anni, ovvero il Before They Were Famous. Dal 28 all'8 di febbraio, infatti, avremo le versioni Kid di tanti personaggi, oltre al ritorno di Sabo, di Sabo, Ace e Rufi, verranno aggiunti anche Hancock, Rebecca, Law, Ina, Smoker e Tashi, tutti nella loro versione Kid. Ci sarà il multi-pull e l'ultimo pull sarà appunto uno di questi secret character. In più, durante questo periodo ci saranno anche i limited time character classici come Log Kid, come Jinbei, Young Jinbei, Akainu, eccetera. Ovviamente consiglio di non pullare perché sono personaggi che non utilizzerete mai, se non per puro collezionismo o se volete avere delle Loli come nel vostro box, come Hancock e Rebecca, allora li fate pure con comodo. Ma prima di passare all'evento che brilla di luce propria, c'è la nuova batch del Colosseum, ovvero che va dal 31 al 18 di febbraio, ovvero Diamante e Sicilian, chiamiamolo col suo nome, vero. A grandissima sorpresa c'è Sicilian, dato che è un Colosseum che, se non sbaglio, sarà stato circa due mesi fa, comunque è il terzo ultimo, quarto ultimo Colosseum che è arrivato nella Japan ed è già arrivato nella versione Global, quindi sarà molto difficile da affrontare, essendo un Colosseum recente nella Japan, ma poi sul suo arrivo ci ragioneremo a fine video. Ma passiamo all'evento vero e proprio che va dal 30 al 19 di febbraio, ovvero la prima parte del terzo anniversario, quindi entriamo ufficialmente in quello che dovrebbe essere il periodo più magico dell'anno per One Piece. Dal 13 al 26 abbiamo la Sunny del terzo anniversario, che però, come vedete, è un po' particolare, perché dal 13 al 26 avrà l'abilità di dare 1.5 di attacco e tre volte i punti esperienza, quindi usatela in combo con doppio Anniversario Law, Neptune Law o, ancora meglio, doppio Neptune. In questo periodo, peraltro, vi consiglio di fare le Rookie Mission di Chopperman, perché ogni tot e missioni completate apparirà l'isola di Chopperman che, mano a mano che andate avanti appunto con le missioni, vi darà sempre più punti esperienza. Quindi usatela anche per questo, e poi comunque servono per... che vi danno gemme, Evolver, Booster, eccetera. Ma dal 27 cambierà il suo effetto e diventerà praticamente la Sunny del secondo anniversario, ovvero 1.5 di attacco con le special già maxate. In entrambi i casi, comunque, la userete solo quella in questo periodo, a meno che ovviamente di casi particolari, soprattutto a partire dal 27, userete veramente solo questa nave. Comunque, tutto l'evento durerà dal 13 all'8 di marzo, quindi tutte queste abilità saranno dal 13 all'8 di marzo, il che mi fa pensare che probabilmente avremo eventi per il terzo anniversario fino appunto all'8 di marzo. sarebbe carino essendo... sicuramente essendo la parte 1 ci sarà una parte 2, ma sarebbe carino essendo il terzo anniversario avere tre parti di questo evento. A partire dal 2 di febbraio abbiamo finalmente i Clash, i Ride Boss, a doppia stamina, doppi reward. Quindi la possibilità di fare come con i Colossium, come con le Fortnite, ovvero spendere il doppio della stamina per avere doppi reward. È una comodità non da poco, soprattutto con i nuovi Ride Boss. A partire dal, se me lo fai leggere, dal 2 al 7 e dall'8 al 12 di febbraio abbiamo un Clash of Clashes con una sorpresa. Infatti lo vedete lì bello al centro e ci arriveremo a breve. Nella prima parte di questo Clash of Clashes che va dal 2 al 6 abbiamo Barba Nera, Pika, Enel, Usoppun ed Eraclisen e il Buster Call. Avremo un giorno di pausa, dubito che ci sia un nuovo Ride Boss in questa giornata di pausa, per poi riprendere da lotto con Rayleigh, Hancock, Bellamy e bene sì anche Ride Boss Sanji. Un po' mi stupisce questa cosa perché qualche giorno fa i dataminer sono andati a scavare nei dati di gioco e hanno trovato i dati di Shogun Frankie, di Ride Boss Frankie, quindi o lo mettono tra il Buster Call e Rayleigh, però fare due nuovi Ride Boss di fila così dubito fortemente. Comunque questi sono giocabili con doppia stamina, doppio drop rate e sulla presenza di Sanji anche a cui c'è tanto da ragionare. Ci arriveremo a fine video che si collegherà anche al Colossium come ho già detto, però posso anche dire che 99 su 100 in questo periodo o comunque dopo perché probabilmente Sanji ritornerà nella parte 2 di questo mega evento dell'anniversario, probabilmente ci sarà il Sugofest dell'anniversario e come avevo predetto e come tanti avevano predetto con Lucy dato che Ride Boss Sanji praticamente richiede 6 stelle Lucy. Dal 13 al 16 abbiamo l'isola del terzo anniversario di Rufi. Completando questa island riceveremo questo Rufi che come vedete c'è scritto che è un capitano per i gialli e i viola e il suo effetto è quello di bustare gli orbe dei gialli e dei viola. Comunque è un personaggio che difficilmente utilizzerete ma è un personaggio a gratis, mettiamola così. Comunque nella versione master di questa island avrete la possibilità di droppare Final Forbidden Tomb che vi danno i socket sicuri e anche Cotton Candy. Come vedete c'è anche scritto che questo contenuto sarà presente e ritornerà nella seconda parte del terzo anniversario e che funziona con il chooser on time ovvero avete 24 ore per iniziare la run una volta che iniziate la prima avete mezz'ora per fare più run che potete. A partire dall'8 di febbraio abbiamo nuove quest che si aggiungono al Rookie Support Quest ovvero alle extra island a quelle Fortnite che rimangono fisse ovvero gli Halloween Stroet le due island degli Halloween Stroet quindi possibilità di avere più socket e poi Perona Young Shanks e Young Buggy questo è molto interessante dal 29 al 13 abbiamo le Champion Challenge che cosa sono? queste Champion Challenge sono praticamente una serie di island che droppano manuali di leggende sarà disponibile con il doppio stamina doppio drop rate quindi fatela solo con questo metodo qua perché appunto sono manuali di leggenda quindi fatele anche tutte perché appunto comunque anche se non avete le leggende di queste island magari la farmate un po' di meno rispetto alle altre però comunque dateli delle dateci un po' sotto perché avere dei manuali di leggenda da parte non fa mai schifo comunque come vedete nella prima parte c'è Cavendish e Doflamingo nella seconda Crocodile Logroofy eccetera mancano un bel po' di manuali perché ovviamente questa qua era una island che è arrivata al terzo anniversario della versione giapponese come vedete mancano Inuarashi Nekomamushi Lo Encock e l'UCV2 Godazop però comunque è una buona serie di manuali e come ho detto consiglio di farla approfittando anche del fatto della doppia stamina doppio drop dal 13 al 19 abbiamo tre punti tre volte i punti esperienza nelle story mode island non c'è niente da aggiungere in più dal 15 al 19 abbiamo un free pool di solito quando ci sono poi anche eventi importanti si allaccia a un sugo fest di solito l'ultimo pool è collegato a un sugo fest quindi probabilmente in questo periodo abbiamo una finestra di tempo più precisa per il sugo fest del terzo anniversario quindi penso che comunque sia molto vicino a questo periodo a partire dall'8 di febbraio c'è un aggiornamento dei friend point vengono aggiunte le ime turtle perché se non sbaglio adesso non sono pullabili e comunque vengono aggiunti anche personaggi della story mode fino ad amazon lili dal 5 al 12 abbiamo 3 volte lo skill up quindi anche qua per fortuna è un evento che è arrivato consiglio se avete da parte degli almighty book soprattutto quelli silver di darli in questo periodo perché ovviamente sono molto rari quindi andrebbero un po' sprecati se dati con uno skill up normale e comunque questo evento qua come c'è scritto tornerà nella seconda parte del terzo anniversario così come anche il triplo il triplo super success che va dal 13 al 19 qui consiglio se non sbaglio in questi giorni dovrebbe esserci un nuovo super success ma forse mi sto sbagliando comunque nel caso ci fosse un super success adesso risparmiatele per il triplo super success in più una rainbow jam al giorno che dire di questo evento che c'è tanta roba è un evento che già supera di gran lunga il secondo anniversario della global che abbiamo avuto l'anno scorso sono contento e mi stupisce che diano già tanto nella prima parte a questo punto chissà cosa combineranno con la seconda tornando al discorso che avevo già anticipato sul fatto che arrivi Sicilian con così tanto anticipo che arrivi Sanji che è collegato comunque a 6 stelle Lucy è perché secondo me questi sono segnali dell'arrivo a breve dell'adventure mode delle treasure map e di conseguenza del limit break perché Sanji e se non sbaglio proprio la batch di Lucy sono state le prime ad avere il limit break Sicilian è un personaggio Colosseum recente quindi che è già nato con il limit break quindi Diamante è anche un personaggio che ha il limit break che sono andato a vedere nel database quindi aggiungere tre personaggi sicuri perché poi penso che anche Lucy quindi tre personaggi farmabili più la batch di Lucy che hanno tutti il limit break sia un segnale dell'arrivo imminente sono contento in parte di ciò perché come ho già detto ai tempi il limit break e la treasure map è un qualcosa in più che va ad aggiungere un po' di spirito a questo gioco che non fa mai male i personaggi delle treasure map sono delle leggende farmabili praticamente però io avrei aspettato un po' di più perché comunque andando a stringere siamo solo alla quinta treasure map da quando è iniziato il limit break nella Japan io avrei aspettato almeno un paio di mesi certo approfittano del terzo anniversario per fare un mega evento e probabilmente la seconda parte sarà esclusivamente dedicata alla treasure map a spiegare cosa sono il limit break eccetera però io avrei aspettato un filino di più appunto non perché la global non sia pronta per il limit break e per affrontare i contenuti delle treasure map ma per aumentare un po' la distanza con la versione giapponese in modo che poi non ci ritroviamo alla pari avere dei mesi senza contenuti detto questo vi ricordo quindi che probabilmente 99 su 100 ci sarà una live dove farò questo pool di leggenda che ci regalerà Chopperman si parlerà ovviamente anche di altro rimanete aggiornati e collegati alla pagina facebook per ulteriori notizie detto questo noi ci vediamo al prossimo video e alle prossime news con one piece treasure cruise ciao